Benvenuti, vi stavamo aspettando, da questa parte. Ecco, c'è pure chi pensa di starsi in Ibiza. Prego, signori, seguitemi. Ciao, Smartman. Ho bisogno d'aiuto. Stefano, che accidentalmente è mio marito, è uno di quelli che farebbe qualsiasi cosa, pure non fa niente. Ehi, hanno suonato, vai a sentire? Ma chi lo è fallo? Cornuto! C'è iguaino alla porta. Ma come? Ma se sta giocando lì? Cos'è? Obliquo? Obliquo? Ma veniamo al dunque. Sono anni ormai che mi batto per convincerlo a comprare un climatizzatore. C'è l'estate, sei schiatta l'ucavera. Hai sentito? Dicono che quest'anno sarà l'estate più calda di sempre. Eh, vabbò, ma tu credi proprio tutte cose. Guarda, è una scia chimica! Ma sei scena? Si stanno sciogliendo le calotte polari. Ma hai sentito parlare di cambiamento climatico? E tu della lobby dei condizionatori. Devi vedere che cosa si è inventato l'estate passata. Maro... Ancora... Insomma, come avrai capito? Qua c'è bisogno di te! Smart man! Smart man! Smart man! Per tutti i cd masterizzati! Devo spezzare una traccia in loro soccorso! Ehi, Smart man! Smart man! No, veramente sono smart man, risolvo problemi! Sì, sì, lo so, lo so! Il caffè? No, grazie! Ah, vado a vado! Vieni, vieni a vedere tu stessa! Stefano! Ma che caldo fa oggi? No, oggi no, si sta buono! È ventilato! Tieni la samp! No, al momento no, non tengo... Guaglio, tichi per la Sampdoria! Ah, non l'avevo capito! No, no, io non seguo la Formula 1! Ti stai scemo! Da che pulpito! Questo è Smart Man, il supereroe della casa intelligente! Senti Stefano, Agnese ha ragione, insomma, qua dentro fa caldo! Stai in meno poso per tu? No, io ho la soluzione che fa per voi! Dovete passare ad Economy Web Luce, il contratto online di Estra per l'elettricità comodo e conveniente! Così potrete permettervi il climatizzatore Smart Wi-Fi di Samsung, che grazie ad una tecnologia super efficiente, utilizza soltanto l'energia necessaria! E così eliminate tutti gli sprechi e massimizzate il risparmio! Eh! Eh! Caffè! No, grazie! Senti, Smart Man! Smart Man! Smart Man! Smart Man! Smart Man! Smart Man! Guaglio! Dimmi! Il fatto è che il caldo non lo soffro! Eh, io sì! E ti ricordo che siamo sposati e condividiamo una casa! Un mutuo! Più che altro! Vabbè, non è il momento di litigare, insomma, Samsung Smart Wi-Fi fa il caso vostro! Avere la temperatura ideale in casa è fondamentale! E poi, con l'app, voi potrete controllare il climatizzatore dallo smartphone o dal tablet, anche quando non siete in casa! Ma ci pensate! Una cenetta romantica, l'uomo di candela in riva al mare quest'estate, eh! Eh, una buona bottiglia di vino! Bianco o rosso? Che c'entra? Ah no, perché bianco ma facci di tà! Rosso? Mmh! Due sguardi languidi, sempre più languidi! E poi, ad un certo punto, volete tornare a casa per godere della vostra intimità? Lì basta un click per creare l'atmosfera giusta! Ma sì, insomma, col caldo si suda, siamo appiccicose, ci sono le zanzare! Senti, voglio, se questo non fa passare pure il mal di testa, stiamo da capo qua! Eh, intanto tu compra, poi vediamo, eh! Sì, scegli direttamente dall'e-commerce di Estra! Niente meno! Voglio, ma come hai fatto? Ma chi sei? Maradona! Non conosco, non saprei! Direi Udini, eh! Le prestigiate! Udini! Aspetta, che significa che non conosci Maradona? Eh, non lo conosco! Però conosco Udini! E poi l'americano, Copperfield, è brava! Giuca Scasella! E lui è bravo, è forte, Giuca Scasella è fortissimo! Giuca Scasella! Eh, sì! Smontalo! Mi ha detto! Caffè? Eh no, adesso il caffè no! Ma scusa, ma lo smonto non ti serve più, insomma, può servirti! L'uomo può far meno tutte le cose! Non tiene paura in niente! Io adesso me ne andrei, perché comunque va anche caldo qua! Vieni a cà! Vieni a cà! Vieni a te, io perdono! Magari io! Un'altra volta, insomma, adesso devo proprio andare, eh! Sta senza pensieri! Finalmente ti fai un po' di cultura, un libro, donne che corrono coi lupi, bello! Ma preferisco il film, quello con Costner Quello era a balla, quei lupi! Beh, sarà il seguito! Ma vogliamo piuttosto parlare del tuo costume? È vintage! Sembri il nonno di mio nonno! Ma cosa ne sai? Ma cosa ne sai? Guarda, mi faccio un selfie! Faccio un selfie così lo vedi se è bello oppure no! Eh, lo pubblico! Ecco qua! Stai a guardare, eh! Eccoli! Un successore il tuo costume, devo dire! Vabbè, sono super ragazzi! Condizionatore climatico, mi stai! E tu delle lupi dei cronizzatori? Dei coglionatori? Animatizzatori? Alla temperatura desiderata... Ma dai! Poi, mi ha dato che vi è più scopologo! Di coglionatori? Ma... Prego! Lei? Ah! Scusa! Web, ecco... Ma va a cacare! Vai! Non so, non so, non so! Andiamo a fare un brew capo, non riesco a dire! La c***a 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 c***a! Dico morda! Grazie.